Ciao ragazze, allora come vedete sono già in abbigliamento estivo perché qua Torino c'è esploso, ma penso come tutto il nord Italia esplosa l'estate direttamente ormai non ci sono più le mezze stagioni, non so che è una cosa molto da vecchi da dire queste cose, ma è vero, effettivamente siamo passati da tipo 7 gradi a 28 oggi qua Torino ce ne sono ben 28, anzi stamattina la mia macchina dava addirittura a 29 gradi, quindi temperature assolutamente estive quindi come vedete io sono già ai top senza spalline, quindi fascia, ho già tirato fuori gonne, paperine, anzi ballerine come dite voi perché qua Torino si dice paperine sandali che sicuramente poi dovrò di nuovo rimettere via nel giro di qualche giorno perché dicono già che la prossima settimana tornerà il brutto tempo, torneranno le temperature giuste per questo periodo però io non so se ve l'avevo già letto in un video, tra poco andrò a Bruxelles per Pasqua starò 4 giorni dal 22 al 25, quindi in realtà ho fatto un cambio dell'armadio parziale perché ho ancora tenuto fuori un pochino di cose pesanti proprio perché sicuramente la farà freddo comunque bando alle ciance oggi volevo parlarvi di alcuni prodotti che mi sono stati inviati da una ragazza che ha una propria linea di gioielli questa ragazza è di Roma e appunto si chiama Viviana e mi ha inviato un pochino di sue creazioni devo dire che l'approccio è stato molto amichevole devo dire che è stata una ragazza subito molto disponibile con me ci siamo sentite via Facebook anche perché era un periodo un attimino incatinato per me tra lavoro, studio e tutto quanto e quindi insomma ci siamo sempre scambiati molti messaggi via Facebook e appunto è sempre stata dolcissima con me veramente molto molto disponibile mi ha fatto fare una sorta di wish list cioè di serie di desideri tra le sue creazioni e appunto tra questa wish list che io avevo fatto mi ha inviato una serie di prodotti tra l'altro è stata carinissima perché mi aveva inviato alcuni prodotti e poi mi ha scritto e mi ha detto guarda mi ero dimenticata di metterti un altro paio di orecchini che ti avevo detto che ti avrei mandato e quindi ti ho fatto un'altra spedizione e ti ho dato ancora un omaggio e quindi è stata carinissima perché comunque magari un'altra aveva potuto tralasciare e dire vabbè anche se le avevo detto che gli davo un altro paio di orecchini lasciamo stare invece lei è stata carina ha speso altri 5 euro di spedizioni e mi ha mandato un altro paio di orecchini allora sono tutti gioielli realizzati appunto a mano realizzati da lei e secondo me sono veramente veramente molto molto particolari oltretutto è possibile acquistare da lei vabbè per chi è di Roma so che ci sono diversi negozi che appunto tengano la sua linea al massimo poi chi è di Roma e chi fosse interessato mi contatti e ho comunque contatti direttamente Viviana in modo da sapere bene se no so che da poco ha aperto cioè aveva già il suo sito di cui vi lascerò il link qua sotto perché io sono casinista di rinomi sbaglio sempre .it.com quindi vi scriverò tutto qua magari vi metterò anche un fumetto qua e appunto ho aperto anche la sezione shopping dove è possibile appunto acquistare direttamente dal sito per ora il sito appunto è aperto per l'acquisti è aperto da poco quindi vi consiglio comunque di aggiungerlo su Facebook la trovate sotto Vivi Bijou vi scriverò tutto questo anche o qui o qua sotto comunque di aggiungerla lì su Facebook vedete sicuramente tutte le sue creazioni e appunto potete contattarla credetemi una ragazza veramente veramente super disponibile e sono sicura che vi risponderà assolutamente a tutte le vostre richieste e domande allora partiamo con i gioielli che lei mi ha mandato allora io sono una persona che nota molto anche il packaging comunque dei gioielli presentati in un certo modo secondo me fanno subito comunque vengono apprezzati ancora di più da chi li riceve infatti lei per ogni creazione mi ha mandato tutto questo in una busta così da spedizione mi ha mandato di ogni creazione il sacchettino tra l'altro che sono proprio fatti adesso forse non riuscirete a vederli qua c'è il logo la B con scritto Vivi Bijou quindi ogni sacchettino è fatto proprio ci sono sia questi più piccoli che questi qua più grandi vedete carinissimi fatti proprio con il suo logo quindi mi ha mandato tutti i sacchettini anche e appunto qui ci sono alcune creazioni che trovate che sono in queste scatoline e altri invece in questi sacchettini anche questi con il logo Vivi Bijou quindi nulla è stato lasciato al caso allora nel primo pacco quindi come vi ho detto c'erano due pacchi mi ha inviato quattro di questi bracciali che a me avevano colpito tantissimo sapete la mia mania dei teschi e quindi mi aveva mandato questi bracciali che come vedete sono fatti con... sono elastici hanno queste palline argentate e poi hanno i teschietti non so se riuscirete a vederli bene ad esempio in questo caso è un teschio arancione c'è di tutti i colori questo poi rosso giallo e blu ci sono anche rosa verde mi sembri verde sì perché poi ce l'ho anch'io poi vi spiegherò dopo comunque di tutti i colori e secondo me sono proprio belli da mettere così insomma tutti insieme poi appunto vi ripeto io adoro i teschi quindi poi questi sono comunque dei teschi soft perché comunque rimangono colorati rimangono molto carini e infatti devo dire che da quando li ho ricevuti non li sto più togliendo mi piacciono tantissimo poi altra creazione che mi ha mandato sono questi orecchini che io indosso adesso ve li faccio vedere meglio però insomma secondo me soprattutto se non si mette nulla al collo al massimo un punto luce essendo molto lunghi sono molto carini e ve li faccio vedere sono... aspettate che ve li appoggio qua come me li ha mandati lei così almeno riuscite ad apprezzarli meglio forse eh? ecco di qua allora la chiusura così con la rosellina e poi c'è tutta questa serie di pietre colorate c'è appunto questa tinta beggiolina lilla verde bianco e un oro un beige oro e secondo me sono degli orecchini veramente carini e poi altrettutto sono leggerissimi io adoro gli orecchini leggeri perché se no mi si stacca l'orecchio dopo poco e come vedete sono veramente cioè questi qua erano sicuramente il paio di orecchini che più mi aveva colpito tra le sue creazioni proprio perché mi sembravano un paio di orecchini molto estivi sia per i colori mi davano comunque l'idea di essere leggeri che per me è molto importante e appunto mi piacevano tantissimo quindi questi sono un altro paio mi ha inviato un altro paio di orecchini così qua sono un pochino più pesanti e quindi li utilizzo quando non devo passare fuori tutto il giorno e sono così hanno sempre ovviamente il buco quindi la farfallina dietro e sono sul rosa forse voi li vedete sfasati e hanno queste due pietre sul trasparente e qui la perla la perlona rosa li indosso così almeno riuscite a capire bene come sono fatti cioè comunque ho orecchini più pesanti e sono fatti così e anche questi li trovo molto molto carini poi non lo so sono molto molto il mio stile in generale io utilizzo orecchini sempre così abbastanza semplici cioè questi qua comunque sono particolari ma allo tempo stesso semplici perché comunque hanno dei colori neutri e molto molto carini quindi questi fatti così li vedrete poi comunque tutti bene sullo suo sito e poi appunto si era dimenticata un paio di orecchini mi inserivo un paio di orecchini nel tacco e quindi mi ha ancora inviato un altro bracciale sempre col teschio questa volta verde quindi in totale me ne ha mandati 5 guardate che carini e poi appunto mi ha ancora mandato un altro paio di orecchini sempre che avevo scelto io in realtà e così qua sono un pochino più particolari ma secondo me sempre carinissimi vedete hanno la chiusura qua con questo sempre ovviamente col buco perché io ho il buco con la farfallina e con questa pietra nera e poi sotto c'è una pietrolina verde e una nera e questa pietra molto particolare a strisce bianca e nera e anche questi sono molto particolari anche questi non sono tanto pesanti diciamo che forse tra tutti i più pesanti sono quelli appunto rosa che vi ho fatto vedere prima e anche questi mi piacciono tantissimo io poiché ho visto molto di nero mi piacciono perché poi appunto il bianco stacca un po' e poi c'è questa pietra verde che anche essa stacca un pochino quindi anche questi sono molto molto carini nulla quindi veramente ringrazio ancora Viviana Vivi Bijou per appunto queste sue creazioni io poi anch'io soprattutto in passato adesso un pochino meno era una creatrice di gioielli quindi insomma so riconoscere una brava creatrice da una che invece lo fa giusto per imitare le altre e devo dire che Viviana è sicuramente una ragazza che ha talento ecco quindi nulla vi invito ad aggiungerla su facebook non mi ricordo se la sua sia una pagina quindi basta mi sembra che sia una pagina dove vi basta cliccare mi piace comunque vi lascerò il suo link qua sotto per contattarla per qualsiasi dubbio problema domanda credetemi è veramente molto molto disponibile nulla vi lascio e a una buona giornata ciao ciao